Musica Buongiorno, bentornati con la nostra Rassegna Stampa. Siamo a martedì 18 di ottobre e come sempre andiamo a leggere i quotidiani regionali. Partiamo dal Corriere dell'Umbria, partiamo dalle prime pagine. Sono i giovani, i nuovi, poveri. Il rapporto della Caritas stimola riflessione anche in Umbria. Il professor Grasselli dice che il ceto medio è in difficoltà. Secondo ai dati dell'Osservatorio Diocesano sulla povertà di Perugia, la maggior parte degli utenti ha tra i 35 e i 54 anni. Esenzione e aiuti per i terremotati, questa la fotonotizia. Primi interventi, esenzioni, agevolazioni e più ammortizzatori sociali nelle aree terremotate ieri. L'approvazione in consiglio regionale, poi ne parleremo. Investita da un'auto, muore una cinquantenne a Spoleto o travolta dalla vettura guidata dal sindaco di Cannara. Da Perugia il giudice chiede tre anni per la prof a luci rosse. Città di Castello si spera in un miglioramento dell'alunno colpito da malore. E poi, come sempre lo sport, serie B. La sfida dell'ex Clemente tra le streghe e il grifo, la partita della mia vita. Ternana pari beffa nel recupero, il trapani di Cosmi strappa il 2 a 2. Gubbio e Lega Pro, oggi la decisione del giudice sportivo. Narciso dice il rigore, non scherziamo. Per la scherma, la folignate Vardaro brilla in Coppa del Mondo. È seconda nella prova di Messico. Per la nazione in prima pagina nazionale, Perugia, Fontiveggio e quartiere Caldo, il comune pensa all'esercito, a quello qua il richiamo in taglio alto di pagina. Ancora dall'Umbria, prof accusata di sesso con l'allievo, chiesta la condanna oltre tre anni. Per l'inserto prettamente regionale, vogliamo l'esercito. Fontiveggio, quartiere difficile, così il comune pensa ad una soluzione drastica, come in altre realtà d'Italia. Sesso con l'allievo, neguai la prof e poi l'auto del sindaco travolge una donna, Spoleto muore a 52 anni. A Gualdo Tadino, la storia di Nowale, una giovane tunisina che ha aperto un negozio di cucito. Da New York fino a Perugia, solo per il grifo, questa è la storia di Florentino, e poi l'ombra di tangenti alla politica nell'appunto di Roscini. Eurociocolate, la rabbia dei turisti, i ristoranti restano chiusi, aiuti terremotati, stop a tasso universitarie e mutui. Per il messaggero dell'Umbria, a Perugia ha 600 case d'appuntamento, ovvero si parla di sesso a pagamento. Per capirci, un fenomeno in espansione, dagli annunci su internet al passaparola, sempre più appartamenti sono coinvolti, professionisti ed insospettabili alimentano il mercato. Ovviamente dove c'è un'offerta c'è sempre una richiesta. La profe non molesta risarcimento da 100.000 euro. E poi, grandi eventi culturali e sportivi, giro di vite in tema sicurezza, il messaggio arriva dalla questura su impulso e richiesta del Ministero dell'Interno. Ovviamente sono alcuni fine settimana congestionati da tanti appuntamenti nel capoluogo e quindi ovviamente l'allerta si fa più importante. Umberto, le allarme furti, ma stavolta i ladri finiscono KO. Il sopralluogo per i colpi nelle abitazioni finisce male e dopo la caccia dei carabinieri vengono presi per un sms. Sull'inceneritore adesso si muove l'AT2 e come sempre, per il messaggero andiamo a leggere le previsioni del tempo. Temperature di nuovo in calo. Il tempo questa settimana sarà variabile, con piogge a tratti e aria più fresca in quota. Da giovedì si potrà peggiorare con precipitazioni intense e persistenti. Oggi invece deboli o moderate piogge. Fin dal mattino, temperature in calo attorno ai 16 gradi. Allora, torniamo al Corriere dell'Umbria e andiamo alle pagine prettamente regionali. Disabili e ospedali, eccoci qua, si apre una nuova fase di confronto. Fondo sulla non autosufficienza e nosocomi. Il consiglio rinvia tutto nelle commissioni e ritorna alla partecipazione. Per la giunta l'attuale sistema non va smontato, garantisce la professionalità e l'universalità del trattamento. Il fondo per la disabilità monta 78 milioni di euro, spesa pro capite di 87 euro. Ancora, piccolo carro, la regione sapeva tutto, lo leggete qua nel riquadro. Barberini, l'assessore dice, gli atti trasmessi in procura. Botta e risposta, 3,5 stelle e l'assessore. Case popolari con 10 anni di residenza, la proposta della legge piace della Lega Nord e di modificare appunto una legge e verrà approfondita spazio anche ai separati. Oltraggio ai ceri, la Marini si muove, la Presidente dice potremmo costituirci in giudizio perché condivide le considerazioni e le perplessità rispetto all'uso dell'immagine, attenzione però, del logo regionale nella sua interezza. Distinta invece, dice la Marini, è la disciplina di tutela dei ceri in quanto tradizione storica. Esenzioni e aiuti per i terremotati, Palazzo Cesaroni approva le disposizioni finanziarie valide per chi risiede nei comuni colpiti il 24 di agosto, niente tasso universitaria, sospensione delle rate dei mutui, ammortizzatori sociali più estesi ed anticipazioni retributive. Ulteriori fondi per il Giubileo della Misericordia, 30.000 euro, e per il Sistema della Protezione Civile, 25.000 euro. Donazioni, il conto corrente aperto dalla Regione, al primo di ottobre, ammonta circa 85.000 euro, esclusi gli SMS. Raccordo nel caos lavori anche di notte, anche questo è un tema attualissimo, intanto la Regione va in pressing su Del Rio per le strade provinciali. Ancora, l'abbiamo letto in apertura, giovani e ceto medio sempre più poveri per la crisi del lavoro. Le riflessioni dell'economista Grasselli di fronte al nuovo report della Caritas, il livello riflette il quadro italiano, non basta il sostegno monetario. Possiamo intuire, dice che in Umbria siano in aumento i connazionali in situazioni di grave marginalità sociale. Le nuove povertà che coinvolgono disoccupati, precari, giovani, donne, adulti, capi famiglie, richiedono servizi oltre al sostegno monetario vero e proprio. Pensate che secondo questo nuovo report sul nazionale l'Italia è a rischio esclusione al quarto posto nella classifica europea. Sono dati allarmanti, davvero. Ancora, per l'economia, Perugina, raggi X allo stabilimento oggi a Milano, incontro a Lasso Lombarda per fare il punto della situazione. E poi le dimissioni online sono in aumento, ve ne parleremo anche più avanti. Intanto per la moda, Luisa Spagnoli guarda Londra e alle e-commerce la strategia retail è sempre più integrata tra online e offline. In Gran Bretagna il negozio è a Piccadilly Street. La tema di In Italy, rivoluzione storica per le etichette, se ne è parlato in questi giorni, svolta dell'Unione Europea, la col diretti anche dell'Umbria, dice ecco la tutela basata sulla trasparenza. E poi per la meccanica. Ecco il ponte delle officine Franchi. L'opera per l'ammodernamento della linea ferroviaria sarà ultimata a novembre. Per quanto riguarda l'innovazione internet più facile, GoInternet punta su Instant Fiber con le 45G. Per la pagina dedicata agli spettacoli, alla cultura, al post, non solo scienza ma anche mostre d'arte. Spazi più grandi, ingresso gratuito, attività per gli adulti, ricerca di nuovi soci per l'interessante struttura perugina. Non finisce qua, andiamo alle pagine dedicate al capoluogo. Viene segregata in casa per gelosia. L'inferno di una donna vittima di minacce e violenza da parte del suo fidanzato e convivente perugino scatta per l'ex compagno il divieto di avvicinamento. Speriamo davvero che sia sufficiente. Anziano alla sbarra per abusi sui minori in cambio di regali. Tre anni e dieci mesi alla prof a luci rosse. Sesso con lo studente che all'epoca aveva 13 anni. Ufficializzata la richiesta del PM, 100.000 euro di risarcimento. Vi ammazzo tutti fuori dalla mia proprietà. Prende a bastonate l'auto dei due cacciatori. Una vicenda che è sbarcata ieri in tribunale. Ora l'uomo dovrà rispondere di danneggiamento. Regolamento di conti per il monopolio dello spaccio a coltella e rivale finisce a processo. E poi la spinta della gente per una città più sicura torna su questo argomento. Il questore Francesco Messina, che parla di droga, infiltrazioni e terrorismo, la guardia è sempre alta, lo fa ieri durante l'incontro in redazione al Corriere dell'Umbria. Ancora, rapina a quattro banche in sette giorni. Si è dato proprio da fare. Condannato a tre anni e quattro mesi. Saccheggi in uffici isolati del Perugino, rinviati a giudizio i suoi presunti complici. Spariscono opere di valore, la cancelliera finisce nei guai. E poi tifoso rischiò di morire dopo la partita per una violenta riesta. Decisione attesa il prossimo di novembre. Ciocco Card Boom, un termometro, potrebbero arrivare a 50.000. Il calo di affluenza di sabato, Euro Chocolate, forse legato al match Roma-Napoli. Poi il test gratis su bicie elettriche, Enel Energia, mette a disposizione due punti. Questo per quanto riguarda le pagine dedicate al capoluogo. Terminiamo con il Corriere dell'Umbria, andando a leggere. Una nuova maxiasta sfiora 8 milioni. Il Comune rilancia le alienazioni. Intanto si ragiona su un possibile presidio fisso dell'esercito a Fontivegge. Gratta e vinci da mezzo milione di euro. Festa grande, taverne di Corciano, ovviamente. Andiamo alle pagine regionali anche della Nazione. Lo facciamo partendo dal quotidiano nazionale, che dall'Umbria questo racconta. Stop a tasse universitarie e mutui, così la Regione aiuta i terremotati. L'Assemblea approva il pacchetto di interventi finanziari, 16 sì, due assenuti le 5 stelle, l'abbiamo detto ammortizzatori sociali, anticipazioni del sistema retributivo, fondi per il giubileo della misericordia e per la protezione civile. L'altra novità è prevista anche la possibilità di ottenere anticipazioni del trattamento retributivo di integrazione salaria per chi risiede nelle zone dove si sono riscontrati i maggiori danni. Sempre parliamo del sisma, quello dell'Aquila, parliamo dell'inchiesta sulla ricostruzione post-sisma in Abruzzo, in particolar modo Bussi e Bugnara, l'appunto shock di Roscini, trovato un foglietto scritto a mano, politica al 5%, tecnici locali il 2%, ai progetti ancora un 5% per un totale, secondo la somma di queste percentuali, ad un 22%. La nota è finita nelle mani degli inquirenti, scritta a mano. Questo dunque per il quotidiano nazionale. Andiamo invece a quello regionale, leggendo sempre le prime pagine, impiegati che vi taccia stipendi non proporzionati all'impiego. I dipendenti comunali di Perugia sono insoddisfatti, una delle assemblee dipendenti di Palazzo dei Priori, la maggior parte non è soddisfatto dei carichi di lavoro e dello stipendio. Troppi lavoratori con i capelli grigi, smorzata l'ambizione delle giovani, un dipendente su due in servizio con un'età tra i 50 e i 60 anni. In comune solo l'11% degli addetti risulta essere under 40. E questo è un po' il male attuale di tutta Italia. Il centralino del municipio è temporaneamente sospeso, la curiosità, vigili urbani con l'incubo dell'aggressione, è una delle categorie cui è stato dedicato uno specifico capitolo nell'indagine del comune, appunto, anche per il rischio di aggressioni. È boom di dimissioni online. L'allarme arriva dal segretario provinciale Nidil della CGL, la struttura che si occupa dei lavoratori atipici e precari. E appunto Massimo Fraulo. E dice che ci sono tantissime dimissioni online. Potrebbe sembrare strano in un momento nel quale di lavoro c'è fame. In realtà sono clamorosi i casi recenti che hanno portato le persone appunto a dimettersi. Ve ne leggo alcuni per farvi capire. Abbiamo vertenze aperte, dice appunto sia Fraulo che Cozzari. Vertenze aperte con aziende che hanno utilizzato collaboratori come veri e propri lavoratori subordinati. E ancora, esercizi commerciali di Perugia che hanno impiegato persone per mesi senza contratto né remunerazione. Aziende che dopo aver assunto e ottenuto il relativo incentivo si dichiarano prive di lavoro. Un ragazzo assunto il gennaio 2016 mai chiamato a lavorare. Addirittura un tirocinio interrotto dall'utilizzatore con un sms per non parlare dei voucher usati impropriamente per coprire intere giornate di lavoro. Ristoranti chiusi lunedì dell'evento, siamo ancora a Perugia. Pranzare in centro diventa un'impresa. Gran parte dei locali sceglie di lavorare, la rabbia dei turisti. In circostanze come queste, dice ConfCommercio, bisognerebbe avere più attenzione per i consumatori. Questo in occasione dell'evento di Eurochocolate. In retroscena, dolci, fondenti e citronella siamo invasi da api e vespe, ovviamente. E poi salta l'illuminazione in via Appia, incubo sulle scalette dell'acquedotto. Tutto buio nel weekend dell'evento. Parliamo di tutt'altra notizia. Cucina spagnola che passione apre in via Bonazzi, Montaditos. Nuova attività negli spazi dell'Ex Voice, domani l'inaugurazione. E quindi un nuovo ristorante che cercherà così di fermare lo spopolamento della storica, avere il centro storico. In via Calderini, medi in Umbra protagonista, on Italy tra moda e gastronomia. E poi Nutrition Day, Stefano Tacconi ora diventa chef, l'ex portiere. Atti sessuali con l'allievo di 13 anni, per la cronaca, ve l'abbiamo detto, richiesta la condanna della prof. Aggredisce la compagna, il giudice ordina di non vederla. Aderuta, mamma scomparsa, vicino al Tevere, un altro giorno di ricerche vane al lavoro, i vigili del fuoco. Ecco, a Fontiveggio ora serve l'esercito, Romizzi va in pressing sul governo. Il sindaco dice azioni immediate per sostenere i progetti della zona. È il progetto, o strade sicure si chiama, che vede i militari impegnati, come detto, anche in molte città italiane. I 5 Stelle sono contrari. E poi passione americana, l'abbiamo letto in apertura, la curiosità, da New York fino a Perugia per la partita. Ecco qua le foto che raccontano di questa avventura. Intanto c'è Chiara che sogna di aprire un club nella Grande Mela perché dice vivo e lavoro in America, vorrei sentire la mia gente più vicina. Allora, lette le pagine regionali, andiamo direttamente attraverso la nazionale, le pagine comprensoriali. Partiamo da Sisi, ospedale, finalmente i posti letto, a breve la dotazione a medicina. L'assessore Barberini rassicura una struttura che sta crescendo. Il potenziamento ha prodotto risultati più che lusinghieri per chirurgia pediatrica. E questo dunque da Sisi. Intanto a Bastia Umbra è inaugurata la nuova rotatoria. Andiamo a Gubbio. I cittadini dicono il Bargello non si tocca. Lettera al sindaco, forse. Ci ripensa. Residenti e commercianti contrari all'idea di cambiare nome. Probabilmente la questione verrà rinviata. Il confronto è sereno. Smacchi chiede in regione, durante il Consiglio regionale, di tutelare il simbolo dei ceri. E poi la tunisina laureata, a Gualdo, apre bottega di Cucito. Senza la Caritas non ce l'avrà mai fatta. Un corso finanziato con l'otto per mille. Per quanto riguarda invece Umberti, le sgominate alla banda dei furti, pizzicati grazie al cellulare. Subito liberi perché non colti sul fatto. Rubano le batterie, arrestati due fratelli a Trestina, svaliggiata. Un'autofficina, 69 batterie per auto portate via. È grave dopo il malore a scuola. Il ragazzino che ora è ricoverato a Roma, il progetto degli Amici del Cuore, dicono un defibrillatore in ogni istituto. Intanto la città prega. Per il 15 annet infernato è ricoverato al bambino Gesù da sabato pomeriggio. Come funzionano le istituzioni? Lezioni di democrazia nelle aule. La proposta di Tofanelli ancora da città di Castello. Investito nella zona di Meltina, 70 anni, finisce in ospedale. Da foligno, droga, ludopatia e disagio minorile. Emergenze sociali a caccia di cure. La tenda ha 40 assistiti residenziali e segue 300 persone l'anno. Credetemi, è una realtà diffusa un po' in tutti i comuni. Ci occupiamo anche di reinserimenti occupazionali. Biodigestore di Casonne, dopo le polemiche parlano i tecnici. Da Trevi invece, presenza record alla sagra del sedano e della salsiccia. Questo dunque quanto viene raccontato dalle pagine della Nazione dell'Umbria per l'inserto regionale. Andiamo alle pagine comprensoriali del Corriere dell'Umbria. Assisi, sporcizia, degrado e poca attenzione. Compromettono l'immagine della città. Ecco, ve lo faccio vedere. Segnalazioni continue dai residenti dell'Acropoli e da quelle di Santa Maria degli Angeli. Assisi, anche ad Assisi, i soldi per la capitale italiana della cultura. Il capogruppo del PD Masciolini rivendica parte dei fondi assegnati dal Ministero a Perugia. Da Bastia Umbra la nuova rotatoria di via Roma guarda il palio di San Michele ed esalta il significato della festa. L'abbiamo detto, si sta cercando ormai da giorni una donna scomparsa deruta, ritrovata una giacca sull'argine del Tevere. Potrebbe essere appunto della mamma che si sta cercando. Da Città di Castello, bume di studenti e all'Unitreti Fernate più di 600 gli iscritti. In seguimento lungo le 45 per arrestare due lituani che avevano rubato 69 batterie per auto in un'officina. Fa centro la sedicesima edizione dell'altro cioccolato, sicurezza alimentare, cucine sociali ed economie solidali. I temi affrontati dalla Kermess nella sua quarta esperienza a Città di Castello. Oggi risveglio l'alcoma del ragazzo colpito dal resto cardiaco in palestra sabato. Tanti gli studenti e gli insegnanti all'incontro di preghiera per il 15enne che ancora è ricoverato a Roma. La buona sanità esiste davvero, io ne sono un testimone diretto. Arriva la lettera di ringraziamento di un pensionato verso i medici tifernati. Rimessi in libertà i tre stranieri fermati domenica, i carabinieri li avevano bloccati alla stazione ma era già trascorsa la flagranza di reato. Corso di difesa personale ad Umbertide al Codacan Club promosso dalla Commissione e dall'assessorata alle pari opportunità. Ad Umbertide l'area dell'ex fornace così mal ridotta e responsabilità dell'amministrazione parla in Movimento 5 Stelle. A Gubbio, ruota panoramica alta 30 metri in piazza 40 martiri per Natale, il programma degli eventi è già pronto. Ai piedi dell'Acropoli ci sarà la novità più spettacolare, una delle uniche tre in Italia alte 30 metri, 18 cabine, 6 posti, 6.000 luci a LED. E poi definito anche il piano del traffico per la mostra del tartufo che è prevista dal 28 ottobre a Gubbio e quindi chiusura del centro fisicamente attraverso le porte d'accesso, divieto di sosta in via De Consoli, via Gattapone, via 20 Settembre e poi il divieto di circolazione in piazza Grande, insomma informatevi. Auto in sosta nel mirino di ladri e vandali ancora di nuovo al cimitero di Gubbio, una delle zone tendenzialmente sempre prese di mira. E poi la città renderà omaggio a Dario Fo, il sindaco annunce iniziative d'intesa con il figlio del premio Nobel, il sindaco che ricorda insieme alla moglie Franca Rame qui era di casa, appunto ad Alcatrazza Santa Cristina. Consiglio Comunale dei Ragazzi convocato per giovedì mattina e poi domenica concerto a Mocaiana di scena il coro Gospel Angels. Da Gualdo Ottadino, una vendetta per ragioni di cuore e l'incendio che ha distrutto un furgone. I carabinieri hanno denunciato un uomo di 43 anni ritenuto irresponsabile, ancora si indaga sulle fiamme invece ai camion. Donazione, occhiali usati, raccolta aperta sino al 30 da parte del Lions Club. Porta San Benedetto piange la morte del suo somaro eroe. A 30 anni nella stalla della scuderia, domenica sera è morto Marco, considerato un vero campione della corsa a pelo. È buffo, ancora da Gualdo, che il sindaco manifesti contro il suo governo. Forza Italia e Morroni, sindaco, ricordano a Presciutti che si lamenta tardi per il mancato riconoscimento di aria di crisi complessa. Ancora da Foligno, Young Jets vuole un patto con Umbria Jets. Dopo il successo dell'ultima edizione si punta a distruttionalizzare i rapporti. Si fanno anche i conti per operare nel sociale. All'auditorium si focalizza l'attenzione sull'importanza della formazione grazie alla cooperativa La Tenda. L'etica nei progetti di impresa arriva il premio del Club Unesco, attesi tanti ospiti per il prestigioso appuntamento. E poi il Museo di San Francesco compie vent'anni, siamo a tre riflettori sui restauri e nuovi allestimenti. A Bevagna i ragazzi locali e quelli di Berlino uniti da un progetto musicale. Il sindaco ha dato avvio a un proficuo scambio che culminerà con un concerto al Teatro Torti. E poi da Foligno un viaggio nella musica con il format Retromania. A Foligno e alla sede dell'Asle 2, Maurizio Ronconi sollecita l'intervento di Mismetti. La visfiamenga volley fa il pieno di scritti. Nonostante le crescenti difficoltà, la società è riuscita a costruire un gruppo affiatato. E poi gli atleti dell'est di Foligno Triathlon conquistano ottimi piazzamenti. Il team è guidato dal presidente Ambrogioni in evidenza. E questo è tutto per le pagine del Corriere dell'Umbria. Terminiamo con il Messaggero dell'Umbria. Anche in questo caso andiamo alle pagine comprensoriali. Umbertide. Allarme furti, ladri finiscono KO. Ad Umbertide il sopralluogo per i colpi nelle case finisce male. Dopo la caccia dei carabinieri vengono presi per un sms. Assalti da pianificare e colpi falliti in pochi minuti. Balordi finiscono nei guai. A Trestina, scrive ancora il messaggero, la polizia arresta due giovani lituani che avevano rubato 70 batterie in una officina. Decisiva la segnalazione di un residente. E poi, l'abbiamo detto, la città di Castello, il sogno dei defibrillatori a scuola. L'iniziativa è promossa dall'associazione Cardiopatici. Arriva nei giorni in cui tutti sono in ansia per il malore del ragazzo del 15enne che è ricoverato a Roma. A Corciano vince 500 mila euro con 5 di puntata. L'abbiamo detto con un gratte vince. A Gubbio sfida sulle opere incompiute. Per quanto riguarda invece la pagina dedicata a Foligno, il centro piace a tutti. Ora sfruttiamo il vantaggio. Stagione entusiasmante. Poniamo la condizione affinché il trend è duri. C'è la necessità di una pianificazione a lungo termine a 3 o 5 anni. Parla Giorgio Papandrea e dice serve una regia tecnica per una strategia che sia permanente. Con visione di insieme e salto di qualità. Sassi contro il bus, tifosi sotto processo da 8 anni. Anche questo è successo a dei supporter dell'Arezzo dopo Foligno, Arezzo nell'ottobre del 2009. E poi la fabbrica nel paesaggio, l'UNESCO premia. Interverrà il sottosegretario ai beni culturali Borletti Buitoni. Ci sarà l'assemblea nazionale. Politica comunale in fibrillazione potrebbe spuntare la sorpresa. Ancora il punto che il messaggero fa in sede per quanto riguarda il Consiglio Comunale, la tenuta della maggioranza del sindaco Mismetti. Allora, è tutto per le pagine comprensoriali. Noi torniamo tra pochissimo per leggere, come sempre, quelle invece dedicate allo sport. Quindi non mancatevi, aspetto. Vi ricordo il nostro sito www.trgmedia.it attraverso il quale, se volete, seguire in streaming anche questa rassegna stampa in diretta o durante le repliche che tra poco vi terranno compagnia nel corso della mattinata. A tra pochissimo!